Muore per dimagrire La società napoletana di chirurgia ha organizzato un dibattito che si è svolto ieri pomeriggio all'Hotel Royal. La campagna presenta tassi di prevalenza di obesità patologica impressionanti e, malgrado carenze strutturali croniche, livelli di professionalità medico-chirurgica notevoli. L'intento dell'incontro napoletano, promosso dalla Società Napoletana della Chirurgia con il patrocino della Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche, è stato proprio quello di far chiarezza su questo tipo di interventi. Gli addetti ai lavori hanno illustrato ai pazienti e ai media quali sono i casi cosiddetti difficili, come prevenire danni, quali sono le prerogative di interventi chirurgici, quali soggetti che possono sottoporsi a tale chirurgia dell'obesità. Gli esperti hanno fornito in maniera didascalica un messaggio il più possibile equilibrato sui reali rischi e benefici di tale chirurgia. Ascoltiamo dunque ai nostri microfoni il professore Mario Musella, docente di Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Non è un pomeriggio di approfondimento, non è un corso di aggiornamento in cui addetti ai lavori si scambiano informazioni. Magari chiedendo pubblicità ai media, ma è soprattutto un'esigenza che noi addetti ai lavori, chirurghi e non chirurghi, sentiamo di dover fornire all'utenza attraverso di voi. Cioè chiarire che cos'è in realtà la chirurgia dell'obesità, chiarire quali sono i rischi, quali sono i benefici, quali sono i limiti, quali sono le indicazioni. Per sfatare un po' di lughi comuni, un po' di miti, un po' di mala informazione e forse anche un po' di terrorismo che naturalmente non è da scrivere ai media, ci mancherebbe, ma quella parte del mondo medico che continua a vedere questa specialità chirurgica con un po' di sospetto. Chirurgia che ha un nome particolare, lo ricordiamo? Sì, definiamo chirurgia bariatrica dal greco naturalmente e chirurgia dell'obesità in senso più comprensibile naturalmente. È una chirurgia che si incentra naturalmente sull'utilizzo di vari interventi, sono varie le tecniche, varie le metodiche e in questo senso anche diversi profili di rischio. Però un dato per tutti, la mortalità annua in seguito a interventi di chirurgia dell'obesità è dello 0,3%, secondo statistiche legate alla letteratura scientifica internazionale. E l'Italia è assolutamente media, quindi in questo senso anche vorer correggere il tiro su quello che può essere una fisiologica attenzione, chiamiamola così, dei giornalisti, io credo possa essere un aspetto interessante. Facendo riferimento alla nostra città e alla Campania, possiamo dare qualche dato sull'obesità? Sì, assolutamente sì. La Campania è la regione d'Italia che è presente il più alto tasso di prevalenza di obesità infantile, quindi cominciamo a dire questo. In Italia grossomodo sono stimati intorno ai 50.000 pazienti grandi obesi, cioè quei pazienti che potrebbero beneficiare di un intervento di chirurgia dell'obesità. Di questi naturalmente non tutti riescono a essere operati, non tutti vogliono farsi operare, ma questo naturalmente è comprensibile. Grossomodo possiamo quantificare intorno agli 800-900 interventi all'anno, quelli che si eseguono in Campania, che sono pochi rispetto ai 7.500-8.000 che si fanno in Italia. In Campania la domanda è forte, i centri sono ancora pochi, soprattutto quelli organizzati e qualificati. E questo naturalmente è un problema rispetto ad altre realtà, soprattutto presenti al nord, dove c'è più organizzazione e quindi una maggiore offerta. Allora qual è il consiglio che possiamo dare ad un obeso che voglia intraprendere anche la strada della chirurgia? Due consigli. Il primo, documentarsi bene. Il paziente obeso che vuole affrontare questa strada è un paziente che deve prendere il discorso molto sul serio. Quindi documentarsi su fonti indipendenti naturalmente, ma in maniera sana e serena. E soprattutto naturalmente dopo affidarsi a centri qualificati dove lavora personale di alto livello. Grazie.